e bella a tutti ragazzi eccoci per questo nuovo video su gta 5 online oggi siamo in una nuova gara parkour che ho creato per il mitico portmoz ed è una gara con il nuovo veicolo si chiama gauntler mi sembra eccolo qua il suino, guardate come l'ha fatta il suino madre mia fiammeggiando, guarda quello che impenna il suino allora mi sa che solo il suino ce l'ha modificata io purtroppo su questo account non ce l'ho, non ce l'ha sul romanaccio kill modificata adesso iniziamo con un gp che queste stradine mi piacciono tanto chi è che sta a cuore madri mia tagliamo qua tagliamo qua, tagliamo qua, tagliamo qua, tagliamo qua, tagliamo in primera andiamo in madre mia che mi sono infilato regà mi sono infilato siamo in primera possiamo sta curva bene e adesso arriva il suino con quella modificata e ce l'ha a tutti eccolo la infatti è già lì è già secondo via 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 arriva 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 in descrizione allora anche lorenzo ce l'ha modificata ok easy gp finora è finora un easy gp allora cerchiamo a sapere iniziare il parco lì prega la modificata guardate quanto corre non c'entra niente io comunque modificata sta macchina è la gauntler è uscita proprio oggi modificata corre troppo corre troppo ma ci si trolla pure troppo ecco il suino che arriva stiamo guidando bene ora qua del perro inizia il parco di prega lasciate un bel like per questa carerita etica che ho creato a portmots e ancora il parco di prega madre mia iniziamo e così inizia il parco di prega piano non ho che mi trovano da dietro fa toccata veloci che c'è il salto ok raga ok ci siamo ci siamo easy siamo velocissimi più veloci che possiamo oh 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 ok ultima parte ce la fa? si si che ce la fa taglie così iniziamo a massimo raga sta gara la parte delle frecce nere è un po' trollose guardate che è nero raga ma è un nero che questo è proprio un nero opaco puro aiiii non sapevo che mi trollone la mia carerita si ma ormai che la dovete saperlo sono abitué a trollarmi le mie carerite non è una novità oh 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 ah raga ma allora me ne vado a cerca me ne vado a cercare sono arrivati tutti sono già finita stanno a fare tutti io non ci credo solo io l'unico povero sui neutro lato solo io e la mia carerita no che è caduto qualcuno ragazzi non si vede queste frecce managgia a me che vado a mettere le frecce nere non si vede niente no qualcuno si vede dal ciechi ma che sta a combinare con queste frecce suoi proprio lì tu devi fermare eh raga stanno tutti qua adesso che dio ce la mandi buona qua ma quello è ancora lì sta veloci sto a perdere troppo tempo qua ma perché parte così raga niente è classico che devo trovare nei miei gatti però c'è una cosa strana sta macchina cioè o non va o va troppo aspetta qua la situation si sta facendo trollosa allora ma che fiamine sto a combinare gatto mmm è grado eh ce l'hanno fatta tutti solo io rimasto trollato qua dai veloce ma che non è difficile sta parte madonna però il problema è che ci stanno gli altri dai veloce 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 è già perso troppo tempo qua e non va madonna levati vai tui vai che ce la fai ma dove aspetta questo sennò se la frena lì eh lo sapevo guardatelo lì che si è fremato va 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 eh stiamo qua mezz'ora ma è caduto va guarda devo mettere un po' la visuale per bene così sui ok dai dai ci siamo ci siamo levco madonna quanto mi sono trollato in quella parte comunque qua hanno fatto già esplodere tutte le macchine quindi già abbiamo fatto metà del lavoro gli altri hanno fatto la metà del lavoro no ok easy andiamo qua eh regà questa parte ah questi altri giocatori eh trollato guardate questa parte che bella madre mia c'è una piccola rampetta che è arrivata in là uffu e l'altra piccola rampetta qui oh beee bestia e un'altra rampetta che si piglia il check easy easy e spawniamo ma che facile sta gara eh con i nostri trollato io lì comunque sono tutti qua a parte il suino che ovviamente è fuggito qui regale fa sta parte e dovete impennare cioè impennare r1 e r2 e poi lasciate le r1 cioè il freno a mano e le muscol impegnano troppo vicino vedete tac lasciate r1 bella bella sta macchina vi lascerò anche il link dell'attività in descrizione eh se volete giocarla sul social club solo playstation 4 only ps4 quindi se avete il pc o se avete xbox qualsiasi altra cosa fuori la ps4 non potete giocarlo e ora qua guardate che spettacolo qua eh qua c'è un bel flippete flopete ok giriamo la macchina easy ok o mufo questa è la fa mufo allora dai 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 ci vediamo un po' sulla neve veloci qua non la vedo molto veloce eh ci arriviamo si ok perfetto alla perfezione sono arrivato bel flip bellissimo flip allora abbiamo un'altra dalla parte guarda sta ma il suino sta a volare eh madre mia no 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 ehm su queste parti qua mi trollo sempre io queste parti del passaggio madonna mufo quanto cuore già mi ha recuperato ciao mufo bravo mufo quanto te trolli mufo mo te trolli mufo mo te trolli mufo trolli trolli mi sta a mandare la macumba mufo vediamo no mufo è anti macumba oh 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 mufo ma te trolli mufo ma te trolli mo se trolla la eh mufo 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 che occhio che cadi occhio mufo che cadi madonna è caduto è caduto è l'ultimo scusa mufo ma devo mandarti questa macumba che mi serve la terza posizione mi serve la terza position allora qua è un equilibrio easy siamo in seconda invece bene bene tanto prima non potevo arrivare perché porco mufo deve arrivare primero perché io comunque sono creatore quindi la legge del suino è chiara il creatore non può vincere la propria chiare vita e allora secondi va benissimo però dobbiamo mantenere questa seconda eh wow 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 ok easy check preso siamo belli secondi si qua ci ho fatto un GIP e te pareva che mi beccava la pala ma zonna che becca te becca la pala facciamo un po' di carbusti che andiamo un po' più veloci qua uh cerchiamo di farci beccata la pala ok ci ha preso quasi finita la gara raga eh spero che gli sta piacendo veloci qua wow 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 ah ok ok perfetto ci sarà anche il cecco quindi anche se andate lunghi vi saldo il cecco l'ho messo bene lì il cecco e il suino ha concluso madre mia ennesimo VR del suino eh ma noi siamo qua siamo qua raga undici minuti a zero tre quasi alla fine guarda che bella sta parte queste le auto le auto coperte raga epico epico qua oh 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 easy e anche qua ta 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 il cecco no 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 ecco la lì rega la mega rampa finale con le bare madre mia madre mia guardate qua che spettacolo quelle casse da morto con le casse da morto ma ma ah ah no facciamo una miniatura qua easy miniatura allora guardate che spettacolo eh non impenna tanto questa vabbè comunque è qua c'è la nostra seconda posizione niente raga spero che questa gara vi sia piaciuta lasciate tanti like iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdervi nessun video seguitemi su instagram romanaccio e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video bella rega ciao ciao